Alle vibrazioni più sottili. Commento. Le materie dei corpi mentale, astrale e fisico devono essere adeguate allo stato di avanzamento della coscienza. Questi corpi quindi devono essere adatti all'individuo che li vive nel piano fisico. Le materie che compongono questi corpi non sono identiche nella loro composizione nell'uomo evoluto e nell'inevoluto. Nell'uomo evoluto i corpi inferiori rispondono alle vibrazioni più sottili che giungono all'individuo.